ciao e benvenuti sul mio canale youtube questa è una ricetta di rosa di fonso presa dagli eventi del gruppo nuvola un amore di pasta madre miscelo le farine per metterle in in autolisi io sto usando invece della rimacinata una farina di semola integrale in purezza scusate ci verso piano piano 400 grammi di acqua il resto lo lascio poi per girare quando vado a girare in planetaria naturalmente sto seguendo tutte le indicazioni di rosa e insieme alle farine all'acqua metto anche il lievito nel mio caso i licoli scusate l'ho messo un po in ritardo ma mettetelo prima è la forza dell'abitudine una volta bagnata tutta la farina con i 400 grammi di acqua copro e faccio riposare per un'ora passata l'ora vado ad accendere la planetaria aggiungo anche il sale e piano piano finisco di mettere l'acqua goccia a goccia così come dice la ricetta porto ad incordatura quindi continuo a girare 15 20 minuti dipende molto dalla vostra impastatrice una volta pronto lo giro lo metto su un recipiente che ho oliato copro e lascio riposare per un'ora passato passato il tempo inizio a fare i tre giri di pieghe cioè questo è il primo giro poi copro aspetto 20 minuti e faccio un altro giro quindi per tre volte dopodiché sigillo con la carta con la pellicola e vado a mettere in frigo per 12 ore e questo è il mio impasto dopo 12 ore come vedete non è cresciuto tantissimo ma ora lo lascio per tre ore a temperatura ambiente non è cresciuto tanto anche perché ho usato la semola non la semola rimacinata è preferibile quindi usare la semola rimacinata bene dopo averlo tenuto a temperatura ambiente per tre ore lo giro sul piano di lavoro che ho infarinato ora lo piego così due volte e lo arrotolo e scusatemi qui mi è saltata mi è saltata qualche immagine però praticamente l'ho piegato soltanto e arrotolato e qui lo attorciglio proprio così vedete lo giro proprio per fare per creare un torciglione che poi chiudo a ciambella ok giro per benino e poi attacco così l'estremità lo metto sulla teglia con la carta forno che ho infarinato in semolato io per sicurezza ci metto dentro qualcosa per non far per non far chiudere tanto il buco buco centrale quindi faccio così ci metto una metto prima un po di semola allargo ancora un po e ci metto questo recipiente ci metto un po d'olio così non si attacca ok copro tutto copro con un telo se volete anche con la pellicola e lascio lievitare ancora due ore bene ecco la ciambella di pane che vado ad infornare e questo è il risultato quindi presso poco è stata 40 45 minuti non di più è bella dorata ora la lascio aspetto che si freddi un pochino prima di andare a tagliare il profumo è buono vediamo anche l'interno bene sì molto bella mi piace bella sì sì eccola qua bene io ringrazio rosa che ci ha dato la possibilità di eseguire questa ricetta con gli eventi che facciamo insieme a tutto il gruppo nuvola un amore di basta madre io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.